A differenza del mercenario, Cristo Pastore è una guida premurosa che partecipa alla vita del suo gregge e tutto questo al prezzo più alto, quello del sacrificio della propria esistenza. Così Papa Francesco, prima della recita del Regina Celi, nella cosiddetta Domenica del Buon Pastore. Dopo aver ordinato nella Basilica Vaticana 19 diaconi della Diocesi di Roma, due dei quali hanno partecipato alla preghiera dalla finestra del Palazzo Apostolico, il Pontefice ha ricordato che nella figura di Gesù noi contempliamo la provvidenza di Dio, rimiriamo un amore sorprendente e misterioso che non è motivato da alcuna necessità, non è condizionato da alcun calcolo, non è attratto da alcun interessato desiderio di scambio. Ma contemplare e ringraziare non basta, occorre anche seguire il Buon Pastore, in particolare quanti hanno la missione di guide nella Chiesa. Sacerdoti, vescovi, papi sono chiamati a assumere non la mentalità del manager, ma quella del servo, a imitazione di Gesù, che spogliando se stesso ci ha salvati con la sua misericordia. Dopo la preghiera mariana, Papa Francesco ha espresso vicinanza alle popolazioni colpite da un forte terremoto in Nepal e nei paesi confinanti, pregando per le vittime di questa calamità e invitando tutti alla solidarietà fraterna. Salutando i numerosi pellegrini giunti in occasione del primo anniversario della canonizzazione di Giovanni Paolo II, il Pontefice ha espresso poi gioia per la beatificazione oggi in Canada di Maria Elisa Turgon, fondatrice delle Suore di Nostra Signora del Santo Rosario di San Germano.